Musica Semigliano Allegri Forse la Juve più forte della sua gestione Sua non di Allegri ma di Agnelli I giorni dell'operazione Ricordante Cristiano Ronaldo Da proprio di persona Di Bala Che va da Ronaldo in area di rigore Palla sul sinistro Ronaldo non può calciare L'uso di lui Torna fuori a Douglas Costa Magnerina Bernardeschi Con Douglas Costa-Livis Tagliato ad uscire Sul secondo palo Non la prende Ronaldo E alle sue spalle Una deviazione Favorisce la Juve Ronaldo le sue finte Ancora Ronaldo Dribbling Doppio passo Ancora Ronaldo Torna indietro Lotta col suo Ronaldo avanza Punta all'area di rigore Ancora Ronaldo Doppio passo Se la sposta sul sinistro Calcia Alto sopra la traversa Sorride Cristiano Ronaldo Proprio davanti alla nostra postazione Conclusione che Non gli è riuscita bene Doppio passarelli Non trova nessuno dei due Palla recuperata invece Da Giorgio Chiellini Ronaldo Ama spaziare I Bernardeschi per Ronaldo Che è solo a posizione regolare Ronaldo 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 La prima volta in bianco nero Mette la palla all'incrocio Batte Loria Freddissimo Su una splendida Sventagliata Di Federico Bernardeschi Buono il controllo Freddezza glaciale 1-0 per la Juve Sulla primavera Inevitabilmente Cristiano Ronaldo A portare in vantaggio i suoi Ci aveva provato Con un sinistro alto Poco fa C'è riuscito Sale Bonucci Va a impostare in verticale Ancora per Ronaldo Ancora regolare Ronaldo prova a resistere C'è deviazione E autogol Per cercare di fermare Cristiano Ronaldo Non è riuscito Dopo una buona partita Fino adesso Capellini A evitare di toccare Il pallone male E a battere Loria 2-0 per la Juve Sulla primavera Quasi Cristiano Ronaldo Doppietta Lancio di Bonucci Ancora il secondo In due minuti Che riesce E poi Anzolini Anticipa Ronaldo E infila la porta sbagliata Gol del 2-0 Uno la fa E Cristiano Rivera Rosa Ancora Douglas Costa Dentro per Ronaldo Ronaldo Sul destro Ancora bloccato a terra Per questa interposizione Ronaldo che controlla Con il petto Se la porta sul sinistro Poi però non calcia Ora che è rientrata Allora poi Parte Ronaldo Aspetta Dentro Douglas Costa Controllo La finita Douglas Costa Loria Lascia il pallone a Bernardeschi Che calcia sul piede Bernardeschi Ronaldo Bentancur La palla arriva per Ronaldo Loria in qualche modo E poi Di Bala Fa doppietta E fa 4-0 E' l'azione della Juve Buon dialogo Tra tutti Sul tiro di Ronaldo Arriva il gol di Di Bala Tra la spinta Un po' goffa di Loria Stavolta Questa la palla Per il portoghese E' arrivato al Sesto tiro Giovanni Agnelli Giunto Alla tredicesima Edizione Il picco Triangolare Diciamolo così Deservato Ai ragazzi Del 2007 Il Quanti sono Il Bavino Il Giallo Ci sono Il 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 Det Il L Di Il Ciao